2018 è tempo di bilanci, anno decisamente positivo per il circuito Musei Uniti-Gubbio. Nella cornice culturale comprendente ben quattro siti di interesse, si è infatti riscontrato una stimolante e sollecita partecipazione a tutte quelle iniziative che interessano il mondo dell'arte. Partendo dal Museo Civico di Palazzo dei Consoli, si sono registrati 48.960 ingressi, dato che segnala un recupero abbastanza significativo relativamente al dato del 2017, che chiudeva con 42.765 ingressi, pesantemente segnato dagli esiti del sisma. Il 2018 è stato un anno caratterizzato dalla quasi costante presenza di esposizioni temporanee, ospitate nella sala dell'Arengo, a partire da antichi strumenti di tortura e pena di morte, fino alle due mostre di Gubbio al tempo di Giotto, tesori d'arti nella terra di Oderisi e tesori ritrovati. Parte del dato però è rapportato anche agli ingressi effettuati per partecipare alle attività didattiche proposte dal Museo Civico, che si attestano intorno alle 1.500 presenze. Il Museo Multimediale della Fessa dei Ceri e delle Brocche d'Autore ha avuto dalla sua 1.223 presenze, anche se si deve precisare che è rimasto chiuso per gran parte dell'anno, in quanto oggetto di riorganizzazione, affinché venisse complementato con l'esposizione delle Brocche d'Autore. Il Museo è stato riaperto al pubblico il 23 luglio ed è stato subito possibile ampliarne la fruibilità per un lungo periodo durato fino al 31 agosto, grazie alla collaborazione con il progetto Giovani Ciceroni del Rotary Club di Gubbio e attualmente ha un'apertura limitata la domenica e ai periodi di maggiore afflusso turistico in città. Il Museo dei Ceri è anche visitabile con un biglietto cumulativo che comprende il Museo della Civiltà Contadina e la Chiesa di San Francesco della Pace. Questi ultimi, la prima aperta dal venerdì alla domenica, il secondo su richiesta per gruppi, hanno contato 8.528 presenze e 542 ingressi.